Oggi siamo qui in un nuovo video di Minecraft per parlare, questo è il vero server VGF, vero e proprio, e oggi vi dovrò parlare di una cosa, cioè domani io parto. Quindi per almeno 10 giorni fino all'8 aprile non farò video, mi dispiace, cercherò di leggere i vostri commenti, e vabbè. Comunque ragazzi, questo è il server VGF e sarà l'ultimo video prima di andare in vacanza. Allora, questo è benvenuto nel server VGF, non so che cosa faccio, vabbè comunque, allora vediamo. Usa i VGF Tonks per comprare armi hop, ok, e in questo server è stato creato da Zizu! Bene, Zizu, senti ti devo dire una cosa, posso vedere al di fuori del VGF, cioè devo trovare la strada, però, droghe. Ok, eccolo, rispetto allo stoffo, rispetto agli altri giocatori, non rompere, forse non rompere le scatole, non usare chat, ma io sto utilizzando la chat. Zizu, è Zizu, è Zizu, non è chat, ah, Foxer Universe, va bene, Spino VGF, Nameless, Lion VGF, Metal Mavio, ok, li conosciamo tutti, vediamo qua che cosa c'è, un bel niente. Senti, ti puoi mettere visibile, per favore, ma fuori non c'è niente, ma fuori non c'è niente, ma fuori non c'è niente, perché sta cosa... Raga, nuovo, ma perché non c'è niente, ma fuori non c'è niente, devo ancora costruire la città, stavo a fare tutto un giorno, ah, ok. Ok, però raga, aspettate, io voglio, se mi metti in creative, per favore, perfetto, e ora noi andiamo a vedere questo qua, che non ho capito che cos'è, qua dentro cosa c'è? Ah, il continuo, questa strada, non avevo capito, vabbè, questo ragazzi è il server VGF del mio amico, che figo, ok, bello, deve continuare, e io, ora finisco il video, lo aiuterò a finire tutto quanto, se lui accetterà, va bene? Ci stai? Oh, ci stai? Zizu, ti aiuto a fare tutto il mondo? Ok, 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 ragazzi, nuova parola? Ok, ragazzi, ok, ok, ragazzi, non ve ne siete ancorti? Dai, se non ve ne siete ancorti, siete degli scemi Io sono nero, e c'è pure un cavallo nero Questo sarà il mio cavallo, del VGF Ma muori male, cavallo Odio i cavalli neri, portano sfiga come i gatti neri Io voglio i cavalli bianchi Oh, ma che cacchio? Basta! Basta, Zizu, smettila! Ragazzi, forse mi ha visto, ma secondo me... Vabbè, io faccio l'apparazione E dai, mettiti... No, no, questo no, Zizu, Zizu, no, 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 dai, per favore E dai... Che cacchio è la prigione? No, non mi farà più entrare in quel porcino Per favore Vabbè, ragazzi, spero che questo vi ti piace, è piaciuto Commentate e condividete, per favore, non... Oh my God, questo ne vuole è morto Cosa? Vabbè, comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Commentate e condividete se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video Dall'America